Il viaggio del Führer in Italia Maggio 1938 Il Führer è ospite in Italia La ricostruzione della visita di Hitler attraverso i documentari che il Luce girò per l'occasione È il momento solenne dell'incontro fra il Führer della Nuova Germania il Re Imperatore e il Duce Fondatore dell'Impero La rivisitazione critica di un evento cruciale anche con gli aspetti scomodi che la propaganda non raccontò Un viaggio evento La testimonianza di un'alleanza che porterà due nazioni ad unirsi in un destino sinistro Hitler e Mussolini Il nazismo e il fascismo Il viaggio del Führer in Italia